Quella di oggi, è la Ternana che avevi in mente quando l'hai costruita? 90% sì, 90% sì. Che ti manca? In questa squadra manca un giocatore che secondo me ci può fare il salto di qualità e che è finotto, perché è un giocatore devastante in alcune situazioni e io l'ho detto pure l'altro giorno, quello che dico, io l'ho detto anche a lui, in questo momento ci serve lui, ci serve il finotto che noi conosciamo, perché è un giocatore con grande gamba, tipo carretta e tu hai un'arma importante. Spero che... Quella cittadella, insomma. È un giocatore che se vedete le partite dell'anno scorso, quando entra la cosa la spaccava la partita, questo ci serve in questo momento. Poi del resto non è che il suo contento di finotto, però sicuramente può dare molto di più per noi, che noi sappiamo quello che può dare e se lui riesce a esprimersi come negli ultimi due anni, noi riusciamo a fare ulteriormente un salto di qualità che questo momento deve dare importanza.